Oggi è l'anniversario dell'uccisione di due innocenti da parte dell'ennesimo finto profugo, peraltro dal centro di Mineo, visto che anche in questa settimana si è spostato qualcuno che ha provato a mettere le mani addosso a una ragazza, quello è un centro che va chiuso, raso al suolo, sigillato, ha diritto di essere accolto e sono pochi che possono rimanere qua, gli altri vanno rispediti a casa loro, c'è qualcuno che si sta arricchendo. Fino a che non verrà chiuso io ci tornerò. Il senso è ormai arrivato alla fine, alle elezioni regionali siciliane noi ci saremo, noi ci saremo con candidature nostre, senza andare al rimorchio di nessuno, men che meno di qualcuno che rappresenta il centrodestra vecchio, riciclato, indagato. Non faccio i nomi e i cognomi, guardiamo avanti, sono tanti siciliani che vogliono guardare avanti. Posso solo dire ai siciliani che la nostra non è una toccata e fuga, ma siamo qua per esserci e per cercare di dare una mano a un'isola che crocetta riportati indietro i troppi anni.